Grazie a tutti, siamo seduti a Caffè Muzza e sono qui a presentarvi una nuova applicazione che si chiama SmartMenu, edita dalla smarttouch.it, potete andare anche sul sito. Cos'è? È un self-ordering, cioè tramite il vostro smartphone potete sedervi al tavolo, troverete un segnaposto, vi attaccate alla rete wifi, vi collegate all'applicazione e dopodiché potete ordinare come se fosse le cameriere. Ecco, ordinazione inviata, aspettiamo. Ordinato? È arrivato subito il crudino, grazie mille. Oh, wow.